E' la durata dell'amore, cari amici, la durata dell'amore. Dio come cambiano i tempi, cari amici, Dio come cambiano i tempi. Questa mattina ero al bar dei cinesi e a un certo punto sono uscito per fumarmi la solita sigaretta e lì fuori accanto a me c'erano due, due, un ragazzo di vent'anni e una ragazza che lei penso di vent'anni, due tubavano, tubavano, cioè facevano l'amore, facevano, facevano l'amore, tubavano. Allora io mentre fumavo la mia sigaretta ho fatto loro una domanda. Se vero amore dura per tutta, io alla mia età pensavo che loro mi rispondessero se vero amore dura per tutta là, loro mi donano delle vita. Invece mi ha risposto la ragazza, capito? La ragazza, io ho fatto la domanda, se vero amore dura per tutta là, ingenuamente pensavo che mi rispondessero vita, la ragazza mi ha risposto giornata, cioè se vero amore dura per tutta la giornata, così mi ha risposto la ragazza, capito? Quando io vado al bar dei cinesi imparo sempre delle cose nuove, delle cose nuove. In patriarcato si dice che l'amore, se vero amore dura per tutta la vita. Questa ragazza mi ha detto che se vero amore dura per tutta la giornata, per la giornata. Ecco cari amici come le cambiano le cose. E se al mio posto ci fosse stato Nietzsche, Friedrich Nietzsche, avrebbe detto che siamo di fronte ad una trasmutazione, trasmutazione dei valori, capito? Ah, ci doveva essere il povero Nietzsche al mio posto. Una trasmutazione dei valori. Va bene cari amici. Grazie e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni. Grazie.